Con l'uscita del nuovo PingyBook 2 sono usciti anche nuovi glitch Buonissimi TikTok e dobbiamo provarli Ma soprattutto dobbiamo cercare di non morire per altre mille volte Ragazzi ben ritornati su RobloxPingy Oggi andiamo a provare i nuovi TikTok virali di RobloxPingyBook 2 Ammazza! Ci saranno delle belle mazzate oggi Saranno TikTok sorprendenti o saranno delle ciuffecche? Spero tanto che saranno sorprendentissimi Saranno uno scuro sprendidissimi Quindi occhio allo smoking e andiamo a vedere questi nuovissimi TikTok virali Però prima di tutto ragazzi se volete altri video su RobloxPingy con i TikTok Iscrivetevi al canale, attivatevi la campanellina e ho lasciato tantissimi mega pollicioni in su Vediamo i TikTok e te Oh TikTok! Cosa mi dici di nuovo? Beh beh è un posto magico TikTok è proprio Comunque andiamo in scopri e andiamo a cercare PigyBook 2 C'è tipo questo? Non distraiamoci, non distraiamoci Primo TikTok, vai! Aspetta, qua siamo davanti alla porta blu E poi Aspetta, sta salendo Sta salendo Ma come ha fatto? Ragazzi è uscito fuori dalla mappa del primo capitolo di Piggy 2 Aspetta però ha fatto in un modo strano Che è andato qua Ha fatto crouch E poi è saltato Primo TikTok Funzionerà, non funzionerà Non funzionerà perché se no che cosa sto facendo Piggy, book 2 Vai, play, book 2 Allora, con calma Anche se io sembro vestito da dentista Vuoi essere tosato, toletto? Aspetta Ma tu non sei toletto Tu sei toretto No, ti prego Non utilizzare la tua mega macchina Allora, il nostro scopo È quello di Salire sopra i palazzi Ciao signor cane poliziotto Devo fare il ladro Sono vestito come un biscotto No, ok, non sono vestito come un biscotto Però diciamo Sono vestito come un gagsta della strada Allora, la porta è la B Quindi devo andare qua Accanto alla porta B Giusto Craucciare E poi saltare No, sta arrivando Piggy No, devo riuscire a fare TikTok Non mi riuscirei mai a prendere Brutta maiala Brutta porchetta Ok, ce la farò Ce la farò fare TikTok So che è fattibile Saltiamo che tras Lui aspetta Lui fa così Cioè salta a un punto C'è il crocione Arrestate il crocione Mi ha rubato nella spazzatura mia Mi ha rubato il telecomando universale Come faccio a cambiare il canale televisore Io lo sapete che sono un maiele pigro Salto e va indietro Salto e va indietro Salto e va indietro Ok, qua Ci sono Devo solo salire Devo continuare a saltare Ok, qua ci sono Qua ci sono Mettite avanti a me, grazie È molto gentile lei Poliziotto ci pensa lei Oh, Donkey Aspetta Aspetta Mettite un po' di qua Aiutami tu Donkey Non so che ce la puoi fare tu Aiuto Mi metto qua sopra Non mi puoi prendere Rush Aiuto Ah Ehm Glitch non funziona più Mi sa Mini tunnel ha sistemato Uffa però Ci deve essere un altro modo Prossimo del token Un altro glitch in piggybook 2 Vediamo Glitch piggybook 2 Ok, accanto C'è un altro uguale C'è uguale Ma come? Ma si può fare? Vediamo Vediamo i commenti You are the best You are the best to glitch You to glitch like me Mamma mia Ragà Quindi sì Funziona Questo forse funziona Ok Sempre indietro Sempre indietro e salto Sempre indietro e salto Ci voglio provare Allora E' il primo palo Della porta verde Ciao a tutti signori Ben ritornati No ragazzi E' un player E' un player E' maledetto E' molto cattivo Ok E' questo il mio palo No No ti prego Giorgio Tu non avrai visto niente Chiuditi Ho la vita Ho la vita Ho la vita Ho la vita Prego 92 minuti Di applausi E' unica Ipotenusa Non farti colpire Dal cateto E ti è colpito Dal cateto No Giorgio Giorgio L'ha fatto colpire Dal cateto Non vi rendete conto Oh ragazzi Siamo saliti sopra E possiamo ancora salire Dimiti sì E basta però Sono salito No no Ancora si sale Sì sono arrivato in cima In cima ai vicoletti Wow Ora posso creare La mia banda La mia banda Gang dei vicoletti Che cantano Che suonano Oh ragazzi Io mi ritrovo sopra il tetto Io posso fare ciò che voglio Cioè posso andare qua E cadere Sono finito fuori dalla mappa E vai Ma se io decidessi Di saltare Da un polazzo all'altro Come un lupo in terzo Lo potrei fare Ho paura Paura Pronti Addio I porci non volano Purtroppo I porci non volano Peccato che i porci non volano Mi devono mettere le armi Mi devono Sono dietro i negozi E vai Allora io posso uscire E andare per la strada Ci provo Ci provo Però io me la sento La strada è casa mia La sento Eccola la strada No Non ci voglio credere Vabbè ragazzi Abbiamo curato che Questo tiktok Funziona Quindi E passiamo al prossimo Prossimo glitch Ok allora Qua siamo dentro L'hotel Ah vabbè Ok si può anche fare qua E mi sa che non è l'unico Che si può fare Si può fare anche così Qua ragazzi Si può fare anche Dove c'è la porta Si salta Si fa col crauce E wow Wow Cosa si può fare Comunque Oltre questo glitch C'è un glitch Molto più interessante Che mi può permettere Di superare la porta E scappare Quello là si che è interessante Poi lo andremo a fare Vediamo questo intanto Ora non ci rompere Le coda Va bene Devo fare questo glitch Però per fare questo glitch Prima ho bisogno Di entrare qua dentro Quindi dobbiamo prendere Le forbici Sentite Ho una botta di cosciotte Nella mia vita Almeno questo Non ce l'ho quasi mai Aiuto il procione Senti ma perché Non rubi qualche radio Ah Aiuto Mi ha fatto male Me la sono vista brutta qua Provo ad andare avanti Devo soltanto aprire qua Ecco la chiave arancione Questa è quella che mi serve La vera soprana di tutte La chiave arancia La chiave arancia Vitamina C Non si trova in una porta C Ma si trova in una porta O O Vorbici Procione perché non mi segui Così ti faccio vedere Come si gioca questo gioco Vieni qua E ora vediamo il trucco Vediamo il glitch Se funziona Allora mi posso mettere qua Mi posso mettere qua E saltare Ci sono Si Ci sono Wow Wow Procione No But Aspetta No Ah Porca miseria Sono un po' Scarso Per utilizzarlo Però funziona L'importante è quello Vero Gloria Ok ragazzi Io direi di andare a vedere I glitch per eccellenza Uno dei glitch più belli Di questo Piggy capitolo 2 Il migliore Cioè ragazzi guardate qua Guardate questo glitch Guardate questo glitch Vicino alla porta Guardate Guardate C'è wow C'è epico Cioè guardate cosa sta facendo Qua c'è l'acqua Ovviamente si deve utilizzare Lo scopettone Per togliere l'acqua Wow fantastico Ma ragazzi la cosa più epica è questa Si mette qua davanti Qua i dance E si ritrova Addentro L'uscita C'è epico Cosa sta facendo Ragazzi devo farlo Devo provare Ci devo provare Ragazzi che ci funziona Facciamo tutta la svetta Allora per prima cosa Dobbiamo prendere le forbici Le forbici le dobbiamo Prendere perché dobbiamo Aprire assolutamente Là dietro Perciò prima subito Chiave arancione È la prima chiave che dobbiamo Prendere Dobbiamo trovare Non vi ha zardato Ok chiave arancione Subito Immediatamente Prendeste le forbici Prima che rush Mi prenda E mi ammazzi Vi prego Ok dai Se tutto va bene Non vi preoccupate Faccio tutto Io da solo Perfetto Allora mi metto qua Metto qua In continuazione Faccio così Sì Siamo dietro Ecco Willow Sì L'ho tolto Non ci voglio credere Mito Come faccio a togliermi Aiuto Aiuto Mi sono pancato la testa È stato molto violenta Come cosa Ora però Intanto ci abbiamo Quello che dobbiamo avere Dobbiamo soltanto Non lo so Dobbiamo aprire l'hotel Dobbiamo aprire l'hotel Dove l'hotel Ma che parte sta l'hotel Di qua Che dobbiamo aprire l'hotel Prendere la scopa Che la scopa sta qua E ora fare quel bellissimo glitch Non c'è bisogno neanche di aprire Ci proviamo Ci proviamo Visto che si può fare Visto che si può fare Ce la posso e fa Ok Andava in questo preciso muro Perfetto E rifaceva la stessa cosa La stessa identica cosa Sono passato Sono passato Ok sono passato L'acqua dovrebbe essere da queste parti Ecco l'acqua Ecco l'acqua Prendi L'avete vista E anche qua Devo metterla Devo utilizzare la scopa L'ho tolta L'ho tolta Wow Mamma mia che mito Entriamo dentro Entriamo dentro Anzi no Anzi no 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 aspetta Serve pure qua la scopa Giusto Ah io ho già tolto l'acqua che sta là Quindi devo soltanto ritornare dentro Perfetto Epico Sì ce l'ho fatta Sì ce l'ho fatta sul passato Wow Epico Cioè sto facendo tutto così In questa maniera Subito là Devo uscire di qua Devo chiudere la porta in faccia Che hai fatto Fatto Non so che cosa mi manca Non so affatto Cosa mi manca Le chiavi Una chiave rossa Non mi serve la chiave rossa Però ce la posso fare Ce la posso fare Forse hai dovuto Ieri l'acqua da là Forse hai dovuto Ieri l'acqua da qua È aperto Non credo sia aperto Chiave rossa Vieni qua Franci Apri Apri qua Apri 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 aiuto Nove No No Non ci voglio credere Ma funziona Incredibile Bellissimo Funziona tutti i glitch Wow Ok ragazzi Io direi che questo video Su Piggy con i glitch Lo posso anche concludere Qua Spero tantissimo Vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto C'è un sacco di pollicini in su E noi ci vediamo A un prossimo video E Ciao